Mister Di Mea, un commento alla gara? Ma una gara bella combattuta da tutte le parti, è stata una partita bella maschia dove il San Nicolò ci ha messo qualcosa in più per vincere e ha vinto. Però qualcosa del suo carattere a questa squadra da quando è arrivato? Comunque la data? Ma non lo so, ancora no secondo il mio punto di vista perché le squadre mie non sono così. E sinceramente sono molto delusio da qualcuno perché vedo ancora la poca determinazione da parte della squadra. Come gioco, come modo di fare ci siamo, però ancora manca di determinazione secondo me. Da chi in particolare? No, in particolare non si parla mai sui singoli, si parla sempre di gruppo. Io parlo come gruppo, ci vuole un po' di grinta in più. Quindi è mancata la grinta oggi? Ma sul gol, specialmente sul gol, l'avevo già preannunciato il gol perché avevo detto di stare attaccato all'uomo e quella disattenzione. Il fatto che non ringorriamo là, quando uno ti salta l'uomo, l'altro si va addosso, si fa saltare l'uomo, un fallo tattico si fa. Invece abbiamo solamente fatto andare in aria, l'abbiamo fatto fare quasi 40 metri di campo. Un errore proprio madornale. Tra le squadre che stanno giocando in questo momento, chi vede che può arrivare fino alla fine? Al di là del San Nicolò? Ma Vasto, Matelica, Farmana, secondo me sono le squadre accreditate per far bene. Sono quelle da battere? Ma secondo me sì. Noi dobbiamo pensare solo e esclusivamente ad uscire da questo momento o no. Per uscire da questo momento o no ci vogliono i cosiddetti. Chi ce li ha, ce li ha, chi non ce li ha. Io personalmente e gli altri. Dobbiamo uscire i cosiddetti. Perché se non vedo i cosiddetti non si fa da nessuna parte. Nessuno magari pensava che oggi potevamo stare i primi da soli, però è una cosa che rimane bella per noi perché è un obiettivo che ci siamo arrivati importante, però sicuramente non è quello il nostro pensiero. Cinico, ultimamente siamo cinici, ma non è che siamo cinici. Sono le partite che sono dure e questa squadra sta dimostrando che si difende bene e poi al momento giusto ti fa gol. Chi li è piaciuto di più? A tutti. Tutti nei singoli li guardo poco. Mi è piaciuta la compattezza della squadra che ha subito poco contro una squadra che era partita all'inizio del campionato per vincere il campionato. Ci siamo difesi bene, abbiamo subito pochissimo. E poi forse ci è mancata un po' di gamba per fare qualche ripartenza per chiudere la partita prima. Tredicesimo risultato utile e consecutivo. Dove può arrivare questo San Nicolò? Al di là della vetta in questo momento, solitaria. A continuare a lavorare settimanalmente, cercare di dare il massimo, cancellando subito la partita di oggi, vedendo quello che non è andato. Era la terza se partita in una settimana dove eravamo molto stanchi, perché la partita di Vasto è stata molto dispensiosa. Abbiamo speso tantissimo e quindi dobbiamo pensare di tornare a martedì, goderci questa sera magari il primato perché è una cosa bella. Però da martedì pensare, come pensiamo tutte le settimane, di andare a Civitanova che è la partita più importante dell'anno.